Ho visto un ragazzino appeso al quarto piano, ho pensato che mi piacciono i bambini e non volevo che gli succedesse qualcosa di brutto davanti ai miei occhi. Mi si sarebbe spezzato il cuore e così per salvarlo sono salito al quarto piano e l'ho preso. È il tardo pomeriggio di sabato scorso quando Mamoudou, 22 anni di origini magliane, da settembre in Francia senza permesso di soggiorno, sta cercando un bar a Parigi nel diciottesimo arrondissement per seguire la finale di Champions League. Quando vede un bambino sospeso al quarto piano di un palazzo, il giovane non ha esitazioni e si lancia per salvarlo. Con una serie di balzi, li vedete in queste immagini ripresi da un passante col telefonino, passando da un balcone all'altro riesce a raggiungerlo e metterlo in salvo, un gesto eroico che ha fatto il giro del web, un gesto eroico per il quale il presidente francese Emmanuel Macron ha deciso di riceverlo all'Eliseo e naturalizzarlo francese, ma non solo. Mamoudou ha anche trovato un lavoro e è stato infatti arruolato nei pompieri di Parigi. Inoltre ha ricevuto una medaglia e un diploma che attesta la riconoscenza della Repubblica Francese per il suo gesto. Il piccolo salvato ha quattro anni ed era solo in casa perché il padre era andato a fare la spesa, ma tardava a rientrare perché sembra, secondo le ricostruzioni, si sia fermato a giocare a Pokémon Go. L'uomo è stato arrestato.